Un servizio utile a tutti quegli utenti che giornalmente stazionano al terminal bus di Grotta Minarda. Sono infatti terminati i lavori alle due pensiline presenti in piazzale Sampio, dove i passeggeri potranno ora attendere al riparo i mezzi per destinazioni urbane, extraurbane e anche internazionali. Un segnale di attenzione per tutti i viaggiatori che da un bel po' causa fatiscienza delle coperture erano costretti ad attendere l'arrivo dei pullman nelle proprie auto, ostacolando in alcuni casi anche le manovre dei bus o negli esercizi commerciali della zona. L'intervento di ristrutturazione delle due pensiline è costato 9.500 euro. Ha interessato non soltanto la copertura e lastre di policarbonato, ma anche la struttura portante in acciaio che è stata ripresa e le pareti in mattoncini ridipinte. Da cittadina ospitale quale Grotta Minarda, ha fermato l'assessore all'urbanistica e trasporti Michele Cappuccio, è importante che accolga i viaggiatori con un arredo urbano adeguato e funzionale. Tra l'altro, negli ultimi anni, abbiamo autorizzato diverse nuove autolinee di bus a fare tappa a Grotta Minarda, sempre nella logica di aumentare l'offerta di servizi ed attrarre persone. Da tempo l'amministrazione, ha continuato l'assessore, aveva in progetto la risistemazione delle pensiline danneggiate in più occasioni dal forte vento, ma visto che la cifra necessaria non era da poco, si è atteso di poter reperire i fondi per poter effettuare un intervento complessivo. Ora l'auspicio a terminato Cappuccio è che le due strutture vengano utilizzate al meglio, rispettate nello spirito del vivere civile perché fanno parte del patrimonio comunale.